Domanda, ragazzi. Come mai nel referendum nessuno più capisce niente? Non si sa se votare sì, se votare no, a parte naturalmente i fedeli di partito che hanno già deciso perché tutto sanno. Bene, allora vi mostro. Questa è la vietta già vista, è la scheda elettorale. Potete votare sì o no. Quattro righe e mezza. Effettivamente sembra che qua si risolvano tutti i problemi del Paese. Bene, allora voi votate leggendo quattro righe. Adesso vi mostro cos'è effettivamente la legge di riforma che voi accettate. Guardate, la faccio scorrere. Incredibile. Voi firmate sotto quattro righe, o meglio, date il consenso sotto quattro righe e vi beccate tutto questo. È scritto tanto, è scritto complicato. Questo serve proprio a non far capire alla gente quello che la riguarda. Io non vi dico cosa è scritto, ve lo mostro. Allora, il Senato sembra che il Paese verrà salvato perché il numero dei senatori si riduce a 100, da 315 più senatori a vita, e non verrà pagata loro, salvo eccezione, l'indemnità parlamentare. Bene, però sarebbe giusto chiedersi due cose. Uno, quali sono le competenze, quali sono i poteri di questo nuovo Senato e soprattutto chi sceglierà questi senatori. Bene, allora qua leggo articolo 10. Leggo che questo nuovo Senato avrà il potere di modificare la Costituzione assieme alla Camera, per cui avrà diritto di vita o di morte sulla democrazia, perché questo significa modificare nuovamente eventualmente la Costituzione. E questi 100 senatori, chi li sceglie? A parte i 5 nominati dal Presidente della Repubblica, gli altri 95, allora, poveretto, uno legge, cerca, qua in questa legge interminabile, cerca, cerca, guardate che roba, potete scaricare da internet. Alla fine si trova articolo 39 Presidenti, disposizioni transitorie, ci sarà niente di importante, e invece qui c'è il sistema elettorale di questi senatori. Praticamente vengono votati dai consiglieri regionali, un sindaco e altri consiglieri regionali per ogni regione, e su liste naturalmente predisposte dai partiti. Non c'è il voto di preferenza, per cui questi 100 senatori saranno praticamente scelti dai partiti, che preparano le liste, e naturalmente chi saranno? Saranno scelti dai partiti e quando dovrebbero scegliere i partiti a chi affidare un incarico, scelgono persone oneste, competenti, capaci, oppure scelgono dei servi fedeli. Sarà un Senato di 100 servi fedeli. Bene. E questo cosa porterà a risparmiare? La ragioneria dello Stato ha stimato il risparmio in 48 milioni di euro, 47 e mezzo, arrotondiamo, 48 milioni di euro all'anno. Gli elettori in Italia sono più di 50 milioni, per cui dividete 48 milioni per 50 milioni, sono 96 centesimi all'anno. Praticamente gli elettori cedono il loro diritto di voto ai partiti per 96 centesimi all'anno. Sicuramente se questa riforma verrà approvata in Italia sarà famosa in tutto il mondo, perché non è mai esistito un popolo che ha venduto il suo diritto di voto per 96 centesimi all'anno. Andate a verificare tutte le cifre e quello che vi ho detto online, dove c'è tutto. Ci sono tutte queste informazioni. informazioni. Bene. Vi mostro un'altra cosa. Allora qui, articolo 31. Tutte queste materie evidenziate in giallo sono competenze legislative che vengono tolte dalle regioni e attribuite allo Stato. Lo Stato si riprende il potere di emanare leggi. Non solo, ma anche per le materie che rimangono alle regioni, lo Stato si riserva il potere di intervenire con una legge nell'interesse nazionale e prevaricare la legge della regione. Per cui lo Stato ha un potere rispetto alle regioni assoluto. Non si capisce perché si devono accentrare tutte queste competenze nello Stato, anche perché credo che tutti si rendono conto che tutti i servizi che riprendono dallo Stato non funzionano. La sanità in Veneto, Lombardia, nelle Marche e ai vertici nelle classifiche mondiali. Perché? Perché la competenza fino ad oggi in materia di salute, di tutela della salute, è della regione. Bene. Per cui il potere viene accentrato. Vi leggo qualche altra chicca a proposito di democrazia. Qui, fino ad oggi con 50.000 firme si propone una legge, articolo 11. Bene. Allora, le firme salgono da 50.000 a 150.000. E queste proposte saranno esaminate nei tempi, nelle forme, nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Cioè esamineranno e voteranno quando e se e come vorranno loro. Bene. Alla faccia della democrazia. Un'ultima cosa, ma ce ne sono moltissime, andate a leggervi tutto. Un'ultima cosa, 100 senatori sicuramente non hanno l'indennità parlamentare. Con qualche eccezione, naturalmente, perché qui c'è scritto che i senatori a vita e in carica, la data di entrata in vigore della presente legge, permangono nella stessa carica. Queste sono le disposizioni transitorie. Guardate, era quasi finita, ma hanno dovuto scrivere questo. Chi sono questi? Presidente Napolitano, ex Presidente Napolitano, e i quattro senatori nominati da lui, tra cui Monti. Monti, capo, Presidente del Consiglio con la legge Fornero. Bene. E questi rimarranno a vita, non solo. Ma guardate, qui parlano ancora. Disposizioni finali. Stava quasi per finire? No. Aggiungono che lo Stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolate secondo le disposizioni già vigenti. Vuol dire che questi cinque continueranno a percepire l'indenità parlamentare. Gli unici cinque e a vita. Guardate, gli hanno fatto un bello onore. Penso che siano gli unici uomini citati in una Costituzione, anche senza nominarli espressamente. Bene. Adesso chiudo. Vi dico solo. Se andate a votare prima, leggete tutto questo, perché non potete votare senza leggere tutto questo. Se leggete tutto e siete d'accordo, votate sì. Se leggete tutto e non siete d'accordo, votate no. Se leggete e non capite, non è perché siete ignoranti. È perché questo è stato fatto perché non poteste capirlo. Per cui, se leggete non capite, votate no.